salve salve giovani fanciulli e giovane fanciulle siamo come avete potuto vedere qui al civico 38 ebbene se la nostra cameraman mi vuole seguire vorrei mostrare che al civico 38 finalmente venga pure avanti signorina non si vergogni non abbiamo ora le nostre maglie e le nostre t-shirt ma non solo perché avremo anche gremiuli di kit calma e zio porco sono ufficialmente da oggi per modena e provincia al civico 38 in via berengagio 38 modena come potete vedere abbiamo la felpa nera però se la nostra operatrice zio porco girevole mi vuole seguire abbiamo anche la felpa rossa con la nostra scritta e pregherei sempre la nostra splendida operatrice di seguirmi guardate non meno signori e signori ora questa è una misura veramente molto abbondante la doppia xl grigia ricordiamo che per tutti i colori c'è la taglia s taglia m la taglia l la taglia xl la doppia xl ma non solo se lei vuole far vedere signorina gentilmente anche il meraviglioso grembiule di kit calma e zio porco cucinato zio porco soffritto c'è nel colore rosso signori signori mi voglio rovinare l'abbiamo messa anche con il colore azzurro ma tutto questo naturalmente detto così in modo scherzoso serve a un fine molto importante il fine è quello di raccogliere fondi per il centro di pediatria oncologica del policlinico di moda reparto pediatria oncologica quindi sappiate che acquistando una felpa o acquistando un grembiule la buona parte del ricavato già come abbiamo fatto per il canile di modena con le magliette dell'estate scorsa andrà al reparto oncologia pediatrica dell'ospedale di modena vi ricordo che faremo la raccolta non solo dell'abbigliamento anche dei cd fino al 6 di gennaio dopo il 6 di gennaio come abbiamo fatto con il canile di modena l'estate scorsa alla fine dell'estate avremo la consegna della somma raccolta quindi se dobbiamo fare un regalo di natale facciamo un regalo che possa servire anche ad aiutare gli altri keep calm and your pork è deciso ad aiutare questa volta il reparto di oncologia pediatrica del policlinico di moda diamoci una mano e soprattutto buon natale a tutti